L'Aquila accede alla finale dei play-off nazionali di eccellenza. Il 2-2 interno con i sardi del Taloro Gavoi basta il rosso-blu di Mister Lore per passare il turno in virtù della vittoria per 3-1 colta in trasverta la settimana scorsa. Pronti via e l'Aquila si porta subito in vantaggio. Due sul cronometro, cross da sinistra di Romanucci. Castro nel tentativo di liberare la sua area in scivolata mette alle spalle di Forzati. Il Taloro Gavoi si riorganizza e al sedicesimo si fa vedere dalle parti di De Chirico. Tiro di Falchi, l'estremo difensore dell'Aquila ci mette i guantoni e devia in angolo. L'Aquila risponde al minuto 24, dercole dal limite facile l'intervento di Forzati. Taloro Gavoi pericolosissimo, 120 secondi dopo, punizione tagliata di Castro, De Chirico disinnesca in volo plastico. La frazione va in archivio con una nuova incursione offensiva degli ospiti. Castro da punizione verticalizza per Falchi che però da buona posizione non trova lo specchio della porta. Ripresa subito l'Aquila in proiezione offensiva con il tiro a giro di Di Ruocco che coglie il palo alla sinistra di Forzati. È il preludio al raddoppio aquilano che arriva al minuto 9. Cross da destra e incornata di Brunetti che non dà scampo al portiere del Taloro Gavoi. Ospiti che non si abbattono e al 29esimo dimezzano lo svantaggio. Pallone a campanile spizzata a centro area di Mele che libera la corrente Falchi, il quale di collo piede batte De Chirico. Cinque giri di lancette e il Taloro Gavoi rimette in equilibrio la partita. Sugli sviluppi di un angolo battuto da sinistra, colpo di testa vincente di Secchi che vale il 2-2. L'Aquila al 36esimo ha la chance per riportarsi avanti ma Shiba da posizione centrale cestina l'occasione. Nel finale, dopo un fallo a metà campo subito da un giocatore dell'Aquila, si accendono gli animi in mezzo al campo. Gran parapiglia tra i giocatori delle due squadre e una volta riportata la calma il direttore di gara estrae ben cinque cartellini rossi. Per il Taloro Gavoi vanno fuori Mele e Sau, per l'Aquila invece sotto la doccia Scognamiglio, Ponzi e anche il secondo portiere Meo espulso dalla panchina. Dopo un recupero lunghissimo non succede praticamente più nulla. L'Aquila passa quindi il turno e ora attende in finale i piemontesi del Chisola, ultimo ostacolo sulla strada verso la Serie D.